C'è Torregrossa che fa ripartire la Brescia, anche leggermente trattenuto, resiste Torregrossa, la giocata, la rulletta di Torregrossa, che poi al limite dell'area scarica per Donnarumma ancora Torregrossa che la piazza! Cosa ha fatto Ernesto Torregrossa? Prima la rulletta e poi è andato a chiuderla con il piattone, dolce dolce, 2-0 che giocatore! Ernesto Torregrossa, giocatore della Serie A di Italia, descendente di Calaboseo e del linaje Castrillo, envia il saluto a tutta la famiglia a Roserito Soccer. Hola, te saluto Ernesto Torregrossa, giocatore della Serie A di Italia. Quiero inviare il saluto alla Accademia Roserito Soccer e a tutta Venezuela. E li invito a formare parte di questa gran famiglia di campeoni, la Accademia Roserito Soccer del Calabozco. Vamo' tutti con Roseritos!